Ciao amici, ormai tutti sapete quanto io ci tengo al detox del corpo, ma oggi voglio parlare del detox mentale che è altrettanto importante. Anche la mente merita un bel detox per sentirsi fresca e rigenerata. Ogni giorno la mente deve affrontare stress, scadenze, imprevisti, trovare soluzioni e se per rilassarci postiamo sui social o navighiamo sul web, la mente resta impegnata. E allora come stacchiamo la spina? Bisogna fare un detox mentale. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Il mind detox è una pausa dallo stress mentale e dai pensieri opprimenti, permette di sentirsi più sereni e ottimisti e di assaporare il momento presente. E ancor più bello, contrasta gli schemi di pensiero malsani che ci fanno vivere male. Lo stress mentale disturba il sistema nervoso, immunitario, la salute fisica e mentale. Lo dimostra chiaramente questa ricerca americana che trovate in descrizione. Ecco allora le mie 5 migliori strategie per disintossicare la mente e ripartire alla grande. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale per conoscere tutte le mie strategie trendy e sane e di cercare nelle playlist le soluzioni che condivido per uno stile di vita sano e felice. 1. La giusta dose di news. Guardare le news troppo spesso prova con un'esposizione eccessiva alle cattive notizie e può causare cattivo umore, pensieri negativi costanti e preoccupazioni immotivate. Essere aggiornati va bene, ma bisogna scegliere i momenti in cui seguire le notizie e poi basta. 2. Un po' meno tecnologia. Staccare da tv, computer, tablet e smartphone significa avere più tempo per altre cose, per dedicarsi agli hobby manuali o anche a dialogare con chi a volte trascuriamo per i social. 3. Un weekend di relax. Una volta al mese bisognerebbe imporsi un weekend dedicato a staccare la mente. Se non abbiamo la possibilità di andare da qualche parte, va bene stare a casa, in pigiama. 4. Meditazione. La meditazione calma il pensiero. Tecnicamente crea una distanza tra lo stress della mente e la risposta ormonale del corpo, con benefici per la rigenerazione del sistema nervoso. 5. Natura. Trascorrere del tempo nel verde pacifica la mente e lenisce le sofferenze dell'anima. Stare in mezzo alla natura migliora l'umore, combatte ansia, depressione e pensieri negativi. Almeno 30 minuti di passeggiata veloce all'aria aperta aiutano anche la circolazione cerebrale. Insomma, senza detox mentale non c'è vero benessere. Dobbiamo riappropriarci dello spazio e del tempo per goderci la tranquillità e avere cura di noi stessi. In questo modo aumentiamo anche l'equilibrio e l'autostima. Per approfondire, iscriviti alla mia pagina Facebook Simona Vignali Naturopata e al gruppo Trendi e Sani per sostenere il mio lavoro, per restare aggiornato e chiedere consigli naturali. In descrizione trovi il link al mio sito e a tutti i miei libri ed ebook. Vivi consapevole e vivi meglio!